Ad Enego abbiamo sfiorato la tragedia, sono state coinvolte 15 abitazioni, abbiamo visto un mare di detriti e fango lungo quella via, fortunatamente non abbiamo avuto feriti, non abbiamo avuto morti. È stata una giornata impegnativa perché oltre a Enego ci sono state le grandinate da Valdiobbiadene a Conegliano, le grandinate a Chioggia, abbiamo chiuso la strada a Gordina per una frana, abbiamo chiuso ad Acquabona per un'altra frana, quindi della strada alla statale su Cortina. Diciamo che non è stata una bella giornata e su Enego, Enego ovviamente è la madre di tutte le battaglie per la dichiarazione dello stato di emergenza, per la richiesta dei fondi a livello nazionale perché penso che ci siano tutti i presupposti per dire che la calamità c'è stata.